Mi chiamo Sukhine Il Bunadi e sono della Terza F. Uliana Carrese, Terza F. Luisa Fusco, Terza F. Ecco a voi, commercialisti, traduttori, i pasticceri del futuro. Ha ognuno la sua ambizione da perseguire attraverso la formazione scolastica che all'Istituto Tecnico Commerciale Abba Ballini di Brescia si arricchisce di esercitazioni pratiche. Sono circa 20, infatti, le studentesse e gli studenti di Terza che nei prossimi mesi parteciperanno ad un progetto di Valenza Europea grazie all'iniziativa di un gruppo di insegnanti che hanno intessuto rapporti con colleghi esseri e che hanno ottenuto il finanziamento europeo. L'idea era quella di focalizzare l'attenzione sull'aspetto economico data la situazione di crisi e quindi abbiamo pensato di creare questo titolo Start up your bright future in Europe, be your own boss che significa che vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di conoscere quali sono le diverse regole per diventare imprenditori in Europa. Scambi culturali in Germania, Spagna e Francia per una settimana con l'obiettivo di stendere il progetto di una start up. Allora partiamo con la prima tappa, il viaggio in Germania, domenica 10 novembre. I ragazzi conosceranno i loro partner stranieri e sono in programma delle attività di presentazione. si terranno delle conferenze con esperti che illustreranno quali sono le possibilità di lavoro in Europa poi avranno anche dei momenti di scambio con la giornata sportiva. Chiara, tu cosa ti aspetti da questa esperienza? Voi che sia educativa, di conoscere la cultura tedesca e di vedere come funziona l'ordinamento scolastico di un altro paese europeo. Conoscere altri studenti e vedere come funziona in Germania la scuola. Ive, cosa vorresti fare da grande? Non lo so, penso ragioniere. Cristiano, Mignoranti, della terza B. In Spagna perché? Cosa ti aspetti da questo paese? Io a me piace molto lo spagnolo, studiare la lingua spagnola e vorrei capire un po' la cultura di quel posto anche perché è totale l'Italia, non ho mai viaggiato. Avremo dei contatti con l'estero, magari ci serviranno anche più avanti quando saremo nel mondo del lavoro. Andare anche fuori dai confini dell'Italia è un'esperienza molto bella perché anche la Germania è una potenza mondiale. Senza la scuola magari non ci sarei neanche mai andata in Germania. Tu cosa vorresti fare a grande? Io voglio fare l'ispettrice d'albergo. Il progetto si concluderà nel maggio 2015 con la realizzazione di un opuscolo sulle varie opportunità e modalità per creare un'impresa in Europa a disposizione delle scuole partner. Grazie.